Rendere più agevole la comunicazione tra 118 e stampa e creare una corretta informazione grazie anche a incontri informativi rivolti ai giornalisti e al personale del servizio sanitario. Questa è la base del protocollo d'intesa siglato tra Regione Toscana e Associazione Stampa Toscana per affermare sempre di più la collaborazione per una corretta comunicazione a tutti gli organi di informazione. Nel protocollo si sottolinea che una corretta informazione può essere data solo attraverso la collaborazione tra le fonti di informazione primarie e i giornalisti. Attraverso questo protocollo abbiamo messo insieme un sistema per cui queste notizie arrivano nel rispetto della privacy, nel rispetto delle leggi e delle regole. Siamo veramente molto molto contenti di questo risultato che si accompagna anche a un corso di formazione che faremo con giornalisti e operatori della sanità insieme. I corsi saranno dedicati alla memoria di Dario Rossi, giornalista della redazione in Toscana Notizie e presidente del gruppo Uffici Stampa dell'AST, scomparso nel settembre 2017. Siamo arrivati al nostro corso di un 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 corso di